Il Comitato di Imprenditoria Femminile di Torino della Camera di Commercio ha presentato il seminario dal titolo Competenze e Innovazione. Riteniamo che in Italia ci sia ancora un forte gap, quindi una forte differenza tra competenze tecniche e propensione all'innovazione e alla materia più scientifica tra uomini e donne. Questo secondo noi potrebbe rappresentare un problema, noi abbiamo deciso invece di coglierne le opportunità. Iniziando proprio oggi da questo primo inizio, ma in realtà sarà un percorso di condivisione con altre associazioni del territorio a livello nazionale o a livello europeo per poter poi lavorare su un progetto congiunto da presentare in Commissione Europea nel mese di gennaio e preparare anche e proporre dei progetti pilota che in qualche modo possano sottigliare questo gap. Al centro dell'attenzione, competenze e innovazione in che ambito? Direi che ormai è a 360 gradi, nel senso che l'innovazione è ovunque intorno a noi. In questo momento non siamo così propensi e non siamo così attenti a tutto quello che l'innovazione può portare e porterà. Proprio nell'ottica di quello che è successo adesso con Industria 4.0, va benissimo andare sempre più verso tecnologie e innovazione che possano in qualche modo aumentare ed aiutare le aziende e i lavoratori di essere più competitivi, ma prima di tutto bisogna poi saperle utilizzare queste tecnologie. La situazione qua a Torino? La situazione a Torino secondo me è abbastanza positiva, nel senso che appunto di fatto l'assessore per le pari opportunità della regione Piemonte ha già spiegato che si stanno attuando appunto dei percorsi anche in questo caso di formazione proprio per cercare di portare avanti questo avvicinamento all'innovazione e alla tecnologia per le donne e non soltanto per le donne. C'è molta attenzione anche da parte delle singole associazioni datoriali, ma anche da parte del Comune di Torino e quindi secondo me è molto molto positivo. Progetti per il futuro? I progetti per il futuro sono veramente tanti, sono ambiziosi, appunto prima di tutto c'è questa preparazione di questa carta di condivisione congiunta con le altre associazioni del territorio internazionale, ma soprattutto la preparazione e la creazione di progetti pilota che possano essere di buon esempio per il nostro territorio, ma soprattutto replicabili a livello italiano e a livello europeo.